Buonasera, buonasera e bentornati a G-Day. Il pubblico di stasera è speciale e anche questa sera, pensate, è interamente composto da dipendenti pubblici greci in sciopero generale. Allora, quale modo migliore per protestare che venire qui alla Sette? Bravi! Anche se oggi non lavorate, un grande applauso, paracalò e caristone. Allora, questa sera parleremo di un ministro importantissimo. Oltre ad essere un ministro con portafoglio, da oggi è anche un ministro con portamonete. Pronto a farsi dare due euro da centinaia di migliaia di italiani scontenti. Ne discutiamo con un grandissimo attore italiano, ma grandissimo, proprio grandissimo, è grandissimo, grandissimo, Giuseppe Battistone. Buonasera a tutti. Ma l'entusiasmo che spontaneamente è sorto in questo pubblico. È una cosa impressionante, vi ringrazio. Ciao Giuseppe, salutate. Chi ve l'ha detto? Ciao ragazzi. Come alcolista e nomi, da quanti giorni non bevi, Giuseppe? Eh, sono una bella roba di minuti, purtroppo. Lo so, lo sospettavo. Un pubblico educatissimo, è bellissimo davvero riaverti con noi, grazie, grazie perché sei notoriamente un uomo schivo, quindi sicuramente sei tornato forse per l'affetto che ci unisce e non certamente perché... No, sono tornato per il frigo, Giuseppe. Eh no, e sarà un caso quindi che venerdì esce un film, il 21 ottobre, Bar Sport, con te, la Finocchiaro, Claudio Bisio, tratto dal libro di Stefano Benni, Bar Sport? No, ah guarda, la locandina. Falso che non sei altro, falso. Me lo aspettavo. Andate a vedere tutto, è bellissimo. Continuano a fare film meravigliosi senza chiamarli, ma io pago il biglietto, vado a vederli. Allora, confermo che è un film bello, torniamo a noi però. Torniamo a noi. Allora, un attore sicuramente come te è abituato a ricevere critiche in continuazione, in tutti gli anni che hai lavorato. Scopriamo quindi anche questa sera in modo particolare cosa dicono di te dei personaggi illustri. Va bene. In realtà il film Pane e Tulipani doveva chiamarsi solo Tulipani, ma Battiston ha insistito tanto. Silvio Soldini, regista. È un attore che come me non ama le mezze misure. Rocco Sifredi, collega. Sono già tre giorni che Battiston non riceve un premio. Non vorrei gli fosse successo qualcosa. Marco Müller, direttore della mostra del cinema di Venezia. È davvero bravo, non capisco perché non faccia cinema. Giancarlo Galan, ministro della cultura. Non mi faccio crescere la barba per evitare la somiglianza. Raul Bova, testimonial di Telefonini. Tutte belle opinioni, tutte belle. È molto fia nei miei confronti, molto umana. Molto gruppi nei tuoi riguardi, tutte queste persone, tutte belle opinioni, ma le migliori sono come al solito quelle che esprimete voi, soprattutto sull'attualità. E il nostro sommario sono i vostri titoli. Berlusconi questa volta è stato assolto ed è giusto che è stato assolto. Le altre volte che non è stato assolto era anche giusto che non era stato assolto. Berlusconi questa volta è stato assolto ed è giusto che è stato assolto. Le altre volte che non è stato assolto era anche giusto che non era stato assolto. La manifestazione deve essere gratis, avviso scoperto, ma chi fa i danni li deve pagare. La manifestazione deve essere gratis, avviso scoperto, ma chi fa i danni li deve pagare. Cominciamo a aprire le case chiuse e far pagare le tasse alle prostitute, vedrà che il bilancio lo tiriamo su. Cominciamo a aprire le case chiuse e far pagare le tasse alle prostitute, vedrà che il bilancio lo tiriamo su. Il gesto manuale è tutto un'altra cosa. Il gesto manuale è tuo, è tutto un'altra cosa. Dieci, quindici anni fa sono andato per fare una firma per la Lega, non ho trovato neanche i banchetti. Dieci, quindici anni fa sono andato per fare una firma per la Lega, non ho trovato neanche i banchetti. E caro amico, purtroppo non li troverai mai a quelli della Lega in banchetti, ricordano il loro incubo più grande, cioè la scuola. Io posso dire una cosa? Ma tu devi. Ma io dico, adesso a Berlusconi gli hanno dato la fiducia ed è giusto che gli hanno dato la fiducia. Ma perché stai lavorando con l'accento sardo? No, hai detto fiducia. Ma l'altra volta gli hanno dato la fiducia ed è giusto che gli hanno dato la fiducia. E si sei trasformato in Beppe Grillo in un istante. È una roba pazzesca, mi rendo conto. È una domanda retorica la tua? Eh, no, no, è una domanda vera, è un altro quesito. Eh, ci siamo già interrogati. Mi metto in coda. Erano 316, giusto? 316. Giusti giusti? Gratis. Erano 300, erano giovani e forti. E gli altri? E gli altri? Giovani e a pagamento. E quei 16, voglio dire io. Giovani non ce n'erano, per questo. Ci facciamo delle domande, no? Come di consueto. E prima di farci delle domande ve ne faccio una io grandissima. Perché ce l'ho? Perché non usarlo, visto che ce l'ho Matteo Bordone. Buonasera. Allora, dopo i disordini di sabato scorso a Roma, il ministro Maroni sta per sottoporre al Parlamento alcune norme che regolamentino in maniera diversa dall'attuale e le prossime manifestazioni di piazza, perché non sono andate come molti italiani avrebbero voluto. Però c'è una richiesta originale fra queste, una cauzione preventiva per rimborsare eventuali danni alle città coinvolte nelle manifestazioni. Sei un manifestante, paghi anticipatamente 2 euro. Sarà un'iniziativa senza dubbio rivoluzionaria, improvvisamente ci saranno dichiarazioni della questura che vaneggiano di 6-7 milioni di manifestanti, manifestanti che risponderanno che al massimo erano 12. E allora, mentre centinaia di antagonisti corrono verso le banche, non per assaltarle, ma per farsi cambiare le banconote, le monete da 2 euro, noi vi poniamo una bella domanda, anzi una gran domanda, che è quella di oggi ed è questa. Maroni vuol far pagare 2 euro a chi scende in piazza. Lei scende in piazza lo stesso o è già in mezzo a una strada? A spiegarvi come votare, un uomo che oggi non mi sento neanche di insultare perché mi fa questo effetto piccola fiammiferaia, proprio in autunno. Vai, Maroni. Siete pronti a scendere in piazza? Mandate un sms con scritto 1 al 478 478 2. Siete già lì, siete già in strada? Mandate un sms con scritto 2 al 478 478 2. Giuseppe, tu come ti schieri questi 2 euro? Glieli dai, glieli lanci o glieli... Io scendo in strada con la carta di credito. Direttamente? Sì. Provate a tirarmi via 2 euro. Anche per movimenti minimi comunque sono processi. A limite le do fuoco in un angolo così... Alla carta di chi come simbolismo diciamo. Esatto, gli da una manganellata, ecco. Che bella immagine che vogliamo dare di quest'uomo picchiato in strada. Comunque tu hai espresso il tuo voto, il tuo parere, ma noi oggi vogliamo osare ancora di più perché se ci si avventura per i sentieri ripidi delle opinioni degli italiani, meglio procurarsi una guida. Ne abbiamo quella più esperta, il più grande scalatore dei sondaggi, Renato Mannheimer. Buonasera, buonasera. Bella zio, bella zio. Benvenuto Renato, tu ormai sei di casa qui. Beh, di casa. Vengo più che posso perché mi diverto da Matti. Eh, lo so. È una curiosità. A questo punto vorrei farti una domanda su questo tema. Come prendono i tuoi clienti istituzionali e la tua presenza in un programma comico? Naturalmente sto parlando di questo e non di porta a porta. Ah no, ma gli ho detto che è mio fratello. Ho detto che non sono io a venire al programma comico, è mio fratello attore. Ah, quindi viene più spesso che vuoi ma ti dissoci da te stesso. No, 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 sono sempre io in realtà, ma tu non dirglielo così tanto. Eh, ma non ti riconoscono con questa parlata che mi hai, così poco riconoscibile, quella cravata altrettanto poco riconoscibile. Quella cravata poco riconoscibile. E ti sei vestito come la nostra scenografia? Eh, mi hanno detto di vestirmi così, apposta, in tono, no? È Fede Culeur. Sto bene, sono carino, no? Hai detto è Fede Culeur nel mio programma? Sì, sì. Vabbè, vorrei lo stesso anche la settimana prossima. Renatino, Renatino, l'ultima volta che sei stato qui ti abbiamo chiesto di fare un pronostico sul risultato della gran domanda e tu lo hai azzeccato, devo dire stupendomi. Colpo di fortuna, pazzesco. È, fortuna. Ne capita uno nella vita. Eh, ma noi vogliamo vedere se te ne capita un secondo, vogliamo attentare la tua reputazione già compromessa ieri sera. Allora, mi fai cortesemente un pronostico sulla gran domanda di stasera? Allora. Lo metti nella busta? Ti ho qui la busta e cosa devo scrivere? Eh, quello che pensi. No, ma di quale delle due alternative la percentuale? Eh, devi scrivere la percentuale, te lo dice Matthew? Allora, se voteranno che sono pronti a scendere in piazza o in strada, quella che secondo lei avrà la maggioranza, insomma, che deciderebbe. Allora, diciamo, aspettate. Secondo me... Ah, no, non lo dico. Non lo deve dire. Hai capito tutto, Renatino. Una cosa devi fare. Eh, no, adesso, adesso scrivo. Devi scrivere, secondo te, quanti sono già in mezzo a una strada? Sì, quanti sono già in mezzo a una strada. Mi raccomando, voi poi votate come scrivo io, eh, io sono d'accordo con i telespettatori, in realtà. Ecco, mettiamo del torbido dove non ce n'è, come se ce ne fosse bisogno. Eh, scritto, scritto, adesso infilo nella busta. Infila? C'è qua un signore che viene a prendere la busta, sigilliamo, eh, perché se no me la cambiate. E come l'hai sigillata? Con una croce? Con una croce, quello che so fare io, so scrivere così, posso fare un'altra croce. È tutto legale, è tutto, è così, funziona. No, ma stai gettando una nuova luce sui tuoi sondaggi. Ecco. Però, al di là del risultato che arriverà dalle vostre case o dal nostro studio, la proposta del ministro Bobo Maroni rivela una grande dose di creatività, e come potrebbe essere diversamente da uno che ha lo set diminutivo di un labrador. Quest'uomo è talmente creativo che ha altre cinque fantastiche proposte per evitare incidenti in piazza, e sono queste. Far manifestare i partecipanti solo uno alla volta, mettere in vendita solo estintori di peluche, dotare la pulizia di altoparlanti e dell'ultimo CD di Fossati per disperdere la manifestazione, organizzare in contemporanea un'estrazione del superanalotto ogni cinque minuti, tutte vincenti, e informare l'Apple Can che può parcheggiare alla testa dei cortei. Ma il nostro Giuseppe, mi risulta che tu sabato fossi in manifestazione. Ahimè sì, ero lì, ero... e tra l'altro mi sono trovato a una decina di metri da dove è cominciato tutto il casino, dove sono cominciati i tofferugli. Ma sei responsabile in qualche maniera o eri uno spettatore imbarazzato? Ma mi hai visto in faccia, ma di cosa posso essere responsabile, scusa un attimo. Cioè loro tu camminavi... Ero responsabile di una birretta che mi stavo bevendo, aspettando che arrivasse il corteo. Ah, tu sei lati o camminavi? Stazionavo, io stazionavo. Il verbo che ti riesce meglio ad empiere in qualche modo. Esatto, esatto. Stazionavo birratenente. E cosa è accaduto? È accaduto che prima ero arrivato in piazza e ho visto che c'era appunto famiglia, bambini, donne e quant'altro. Mi sono messo a lato per bere una birretta e a un certo punto ho visto partire lacrimogeni, idranti, ho visto arrivare gente con i caschi dietro dei celerini. Insomma, una carica. Ma hai messo in salvo la birra che mi sembra che ci tenessi molto. L'ho messo, sì, l'ho messo subito dentro lo stomaco e poi ho cominciato a camminare in direzione opposta agli scontri. Ho fatto male, secondo te. Bravo, coraggioso, coraggiosissimo. Mi piace così sprezzante del pericolo. Esatto. E qua c'è il nostro Renattino che ha un passato da extra parlamentare di sinistra. È vero. Che a vederti così è un po' come dire che Cristina Chiabotto ha lavorato al CERN. Ma ero più magro, ero più agile, sì, sì, sì. Eri più arrabbiato perché i contestatori sono arrabbiati. Tu sei arrabbiato? Io adesso non più. Allora ero arrabbiatissimo. Con cosa hai sostituito la rabbia dentro di te? Con l'amore. Sì. Bravo, eh? C'è gente che ha preso in mano un estintore dopo questa notizia. Ma tu hai dei consigli da dare al ministro Maroni per risolvere i problemi a parte le dimissioni? No, deve ragionare, a mente fredda. Queste dei due euro ciascuno da pagare non mi sembra una grande idea. Questa no. Non mi sembra una cosa eccezionale. Poi sono difficili da raccogliere, non ho moneta, devo cambiare. Insomma non mi sembra una grande idea. Ma voglio le garanzie bancarie. E come si fa? Allora i più poveri non possono manifestare. Esatto. Ma guarda, vedi Renato che piano piano le cose devi costruire. No, c'è lì anch'io pian piano. Come si fa? Ma vi smettano di frequentare Bruno Vespa? No, questo non posso perché io lo amo. Ma ami più me o Bruno Vespa? Questa è una domanda che non si fa. Mai mettere gelosie tra presentatori. Mi rifiuto di rispondere. Vabbè, ce la gestiamo dopo questa storianza. Ce la gestiamo dopo in privato. Comunque gli scontri di sabato hanno fatto tornare alla ribalta il problema dei tagli per le forze dell'ordine inseriti nella finanziaria. La polizia e i carabinieri sono privi di risorse. Fanno addirittura le collette per avere la benzina e il gas. Maroni ha una proposta per il mantenimento dell'ordine pubblico. Non ne abbiamo una per il mantenimento delle forze dell'ordine e della loro famiglia, caro Giuseppe. Una proposta falsa che però ha suscitato risposte tutte rigorosamente vere. E il nostro, come lei saprà... Come lei saprà, visto le difficoltà economiche della polizia, da novembre sarà obbligatorio prestare la propria auto per tre giorni al mese alle forze dell'ordine. Col pieno fatto. Lei è d'accordo? No, non sapevo questa notizia e veramente sono sconvolta. No, la mia macchina è la mia macchina. Lo facessero i politici con i loro stipendi e le loro auto blu. Assolutamente no, ci deve pensare allo Stato. Già paghiamo le tasse. Comunque io ho un utilitario che ha 11 anni e non credo che sia adatta agli inseguimenti della polizia. Prestare la mia macchina col pieno mi sembra assoluta, al massimo senza il pieno. Purtroppo me l'hanno rubata. È una cosa importante, non essendoci rapporto, diciamo, di benzina, tutto il carro vita, penso che sia una cosa abbastanza giusta. Ma lei ce l'ha un'auto? No. Ecco. Allegoricamente è molto chiara, la signora è disposta ad aiutare ma non ha gli strumenti per aiutare. Tu hai una macchina da prestare ai poliziotti, Giuseppe. È blu però, adesso non vorrei che... Ma blu, ma di che cilindrata? È un 1.6. Però è rigata, me l'hanno rigata col chiodo da tutte e due le fiancate, mi hanno rubato lo sportellino del tappo del serbatoio. Se gli va bene, le gomme sono buone comunque. Che tristezza che stai dando a livello automobilistico. No, vabbè, ma è comunque scattante. La tengo perché è una macchina che ha un motore veramente elastico, performante e divertente. Ah, non c'è il tappo della benzina? Ah, beh, cosa vuol dire? C'è il pieno fatto, scusa, è obbligatorio a dargli a colpieno. Basta che non fumino tutti assieme dentro perché un po' mi dà fastidio. Va bene, le poliziotti... O che se mangiano quelle cose lì che tirino su perché mi dà... E i poliziotti solo quegli americani mangiano la ciambella e il caffè. Matteo, tu che le ciambelle e il caffè le pasteggi abitualmente. Sì. Vuoi fare qualcosa per meritartele? Sì, per prima cosa voglio far notare come mi sia arrivata certificata dalle due croci. Siamo a un passo dal livello notarile, la busta con il risultato del prof Mannheimer. Ma c'è una notizia. Ieri, notizia relativa a un fatto successo ieri a Milano davanti al Pirellone. Il figlio di Renzo Bossi, noto ormai universalmente come il trota, si stava dirigendo con Tempra Salmoni dal Consiglio regionale della Lombardia. Quando un gruppo di metalmeccanici in manifestazione lo ha affrontato, l'ha contestato con fischi, lanci di uova, lui è riuscito a entrare, ma da un'entrata secondaria è escortato dalla polizia. Allora, la situazione è delicata in quella famiglia. Bossi senior contestato, ma solo dai suoi. Bossi junior contestato, ma da tutto il resto del mondo. Renatino, sciamano della politica. Per il trota... Eh, come mi rispondi? È un problema, dimmi, dimmi. Eh, non ti ho ancora fatto la domanda. Renatino? Sì, cara. Ah, ecco. Ti riconosco adesso. Per il trota, nei prossimi anni sarà più difficile, secondo te, farsi amare dagli italiani o imparare una tabellina? Anche quella del 7, dell'8, che è la più difficile. Eh, sono tutte e due cose difficili. Sulle tabelline ha avuto problemi, come sappiamo. Adesso credo che abbia superato l'esame che sia all'università. Credo. Comunque ha avuto problemi. Farsi amare dagli italiani non è facile, perché questa figura di erede del leader non piace agli italiani. Gli italiani non è mai piaciuto che si trasmettesse da padre a figlio la leadership. Nessun leader erede ha mai funzionato. Eh, ma infatti non l'ha preso dal padre la leadership. Ah, no, no, per l'ora. Vorrebbe. Vorrebbe. Si sta dando da fare, va sempre con lui. Non lo vedete? In fotografia è sempre con lui. Sì, è sempre dietro. Che nuota come la trota, sempre dietro. È sempre dietro, che non è bello stare... Comunque, i problemi che incontra questo Renzo Bossi con la gente comune sono dovuti tutti quanti fondamentalmente a un grande difetto di comunicazione. Certo. Non riesce a farsi capire. E il motivo è, presto ho detto, noi parliamo l'italiano, lui parla il padano. Allora abbiamo trovato un modo per rendere comprensibile il messaggio politico dello statista universalmente riconosciuto come trota. Ecco la traduzione di Renzo Bossi dal padano all'italiano. Prego. Renzo Bossi, dopo tre mesi di consiglio regionale, quali le sue considerazioni? Insomma, è un bilancio positivo. Una nuova esperienza, difficile perché sono stati tre mesi per capire come funziona il meccanismo della regione Lombardia, ma credo che a chiusura dell'approvazione di bilancio da parte del consiglio regionale, di avere intuito come funzionano i meccanismi all'interno di questa situazione. E gli amici cosa le dicono? Beh, gli amici, insomma, vivono un'altra realtà. Loro studiano, magari qualcuno lavora. Io, oltre al lavoro che faccio in consiglio regionale, studio. Sto studiando economia e quindi spesso mi chiedono magari come è possibile portare all'interno dell'ambito della politica qualche problema che i miei stessi amici vivono. Primo fra tutti, magari il problema è di entrare in questo mondo del lavoro così difficile. Tra l'altro, somiglia in maniera inquietante a Eros di Pollo, alla stessa petinatura. Matteo, le contestazioni a Renzo non hanno fermato il lavoro della provincia? Assolutamente. No, il consiglio regionale della Lombardia, nonostante questi tafferugli prima dell'ingresso di Renzo Bossi, è riuscito ad approvare lo stesso un nuovo assestamento di bilancio. Abbiamo le prove. La notizia è riportata sia da Libero che da Repubblica. È un po' come mettere d'accordo Santoro e il Tg4, Battistone e la Dietazona, la Pravda e i nazisti dell'Illinois. E non è tutto, caro Matteo. Sono stati bravissimi perché hanno finanziato una serie di iniziative fondamentali per questa regione. In un periodo come questo, spendere bene i soldi pubblici è molto importante. Allora, Giuseppe Renato, io vi elenco cinque iniziative eventuali, forse. Dovete indovinare se sono veri o no, tra quelle finanziate ieri al Consiglio della Lombardia. Davvero? Dovete prenotarvi e dire se è vero o falso. Manifestazione Canora Padania in musica, 5.000 euro, vero o falso? Vero. Vero. Vero, vero. Era vero. Contributo per l'iniziativa Ciac e Girum, fiera Paullo, 2.000 euro. Vero o falso? Vero. Vero, vero. Sarà vero anche questo? Eh, sarà vero anche questo sì. Ma c'è un altro fuoco. Ciac e Girum. Ciac e Girum. Eh già, c'ero anch'io, sono andato anch'io a girare. Guarda, tu pensi adesso alla sfortunata coincidenza che tardando nel prendere questo te l'ho fatto a dire questa cosa. Vedi. Se avessi trovato subito la terza, c'eri davvero? Volevo andarsi, poi non ho potuto, la bicicletta non funziona. Eh, sei sempre peggio. Il terzo, ristampa del volumetto artisti valsodesi in Polonia nel 600 e 700, 4.000 euro. Vero o falso? Potrebbe essere. Anche secondo me. Eppure vera questa. Il quarto è questo. No, vabbè, non è vero. È vero, è vero. Guarda, lo so, mi rendo molto che dico delle cose strane, però... Ma gli artisti valsodesi in Polonia, però nel 600, quindi è una minoranza culturale da proteggere. Ma vedi, sapevano che c'era la Polonia a quel tempo. Eh sì, e volevano anche diffondere la cultura bretone, come si dice, non bretone, celtica. Valsodesi. Celtica, valsodesi. Comunque in Polonia c'è un programma dove stanno parlando di un libro sugli attori friulani, con la stessa ironia. Con la stessa ironia che usiamo noi per loro. Elegante. Elegante. Il quarto è questo, reality show sulla vela, a vele spiegate, 10.000 euro. No, 10.000 secondo me no, sono tanti. Renatino? Capacissimi di avere fatto anche questo. Eh ma tu, tu indovini soltanto perché pensi che al peggio non c'è mai fine, non per altro. Era vera pure questa, Giuseppe. Sono in svantaggio. Stai perdendo, contributo per evitare la fuga di cervelli, 15.000 euro. Questo no. E mi sembra chiaro che finalmente no, se non avrebbero approvato quelle precedenti. Ma di certo, la regione Lombardia non è l'unica ad avere sperperato dei soldi in cause discutibili. È il vostro momento, amici da casa. Vi siete levati uno sfizio, ma ve ne siete pentiti. Allora chiamateci, condividete, sfogatevi. I vostri scialacqui stanno per diventare i protagonisti di questo momento TV. Il numero è sempre questo. E raccontateci di quella volta che avete sprecato dei soldi. Stop al televoto. Grazie. Puntuale e gradevole, è sempre questa interruzione. E quella volta che avete sprecato dei soldi per qualcosa di inutile. Gino da Vicenza. Ciao. Ciao Gino da Vicenza. Tutto bene? Sì, sono io, ciao. Sì. Tutto bene? Bene, è abbastanza. Eh, ma... Faccio la pioggia va bene. La pioggia? Ma non sei di Vicenza? Sei un trapiantato. No, no, sono isolano siciliano. Sì, e cosa fai a Vicenza? Eh, purtroppo per lavoro. Eh, per sfatare il mito che i siciliani non vogliono lavorare, hai fatto bene a rispondere così. Chi l'ha detto che i siciliani non vogliono lavorare? Tu! No, io ho detto che i siciliani non vogliono lavorare. Hai detto purtroppo per lavoro a Vicenza. Stiamo litigando a te. No, 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 non c'è tempo per lavoro. Perché potevo lavorare in giudegia. Ah, certo, l'assenza di lavoro. Scusami, sei stato frainteso. Eh, lo so, capita talvolta. Allora, Gino da Vicenza, raccontami di quella volta che hai sprecauto dei soldi per qualcosa di inutile. Vai, Ginetto. Allora, praticamente ho fatto passare un elicottero con un stigione, Maria Angela, ti amo, su una spiaggia, ma sfortunatamente Maria Angela e spiaggia era con un altro... E mi hai lasciato senza parole. Gino, mi dispiace. Salutiamo Maria Angela e... Salutiamo Maria Angela. Flavia da Napoli. Ciao. Ciao, Flavia da Napoli. Sì, appunto. Flavia, quanti anni hai? Eh, 37 e dicono che ti somiglio. Per me è un onore, ovviamente. Ah, meno male, questo chiarimento mi aiuta il mio amore proprio. E cosa fai nella vita? Il segno è ginnastico, è data la situazione economica nel paese e insegno ai giovani a fare salti mortali. Sì, tripli salti mortali. Ovviamente, è importante. È importante. Eh sì, è utilissimo da mettere nel curriculum un salto mortale, insieme alle lingue, è la cosa che aiuta di più. L'importante è capire come cadere. Eh, lo so, è rialzarsi, soprattutto rialzarsi è l'importante. Flavia da Napoli, dimmi quella volta che hai sprecato dei soldi per qualcosa di inutile. Vai. Allora, ho comprato una motocicletta e ho pagato 14.000 euro per riconquistare il mio ex fidanzato. Sono andata sotto casa sua per fare una bella figura e in realtà ho peccato il palo. A parte che vorrei capire, 14.000 euro, insegnando ginnastica, dovete essere tirati fuori. Ma purtroppo non abbiamo più la linea e non possiamo sapere com'è la risposta. Il dato è tratto. Il dato è tratto e il tempo stringe, quindi devo rileggere la gran domanda e vedere se Mannheim l'ha indovinato. Maroni vuol far pagare 2 euro a chi scende in piazza, lei scende in piazza lo stesso. O è già in mezzo a una strada, è già in mezzo a una strada. L'84% di quelli che oggi hanno scelto di votare. Matteo? Ci siamo? Un momento etopico. 63% ha sbagliato di 21 punti percentuali. Renato? Però ho azzeccato che erano la maggioranza. Non credevo così tanto. E lo so, c'è del malcontento, ma tu ci fai felice, torna quando vuoi. Ringrazio Renato Manheimer, ringrazio Gisogno Battistone, ringrazio Matteo Porgone. Grazie. E noi ci vediamo domani con un altro spettacolare G-Day. Ciao. 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 Ciao.